nel video della fine della settimana scorsa avevamo appunto detto che il nasdaq era arrivato a target sui minimi questo era riferito al candela del 22 aprile cioè questa qui cosa succede quando si va a target o il target viene bucato o da lì parte un rimbalzo ecco buona la seconda sembra sia partito un rally un rimbalzo oggi percentuale di rialzo importante andiamo un attimo ecco alle quotazioni e manca un manca un po alla chiusura 20 minuti in questo momento l'etf delle 3 q segna più 3,7 per cento come vedete percentuale roboante ma in realtà vista la volatilità è chiaro che qui è appena una candela gialla una figura di rising star normale nel frattempo questa è la scala daily abbiamo cambiato struttura secondo pallino nero a scendere quindi questo è un rally che potrebbe anche durare e ha come prime resistenze area 340 delle tf e per oggi l'innesco a rally chiaramente poi c'è sempre una ragione a posteriori però diciamo l'innesco è stato i risultati un po migliori rispetto al previsto di facebook abbiamo portato fortuna facebook ne parlavamo l'altro giorno un roboante più 17 per cento che a stento si vede perché ovviamente abbiamo fatto diverse volte questo discorso quando le discese sono importanti cioè facebook ha perso il 50 per cento del suo valore dal mese di settembre è chiaro che poi basta poco per fare percentuali a due cifre però come vedete questo è un hanging man un rimbalzo fatto a forma di hanging man con picco di volumi quindi anche abbastanza vendite su questi livelli quindi da confermare nei prossimi giorni se qui si sta formando una base per un rialzo più di duraturo da un punto di vista tecnico le premesse ci sono perché comunque guardate la distanza dalla media 200 è notevole quindi sicuramente c'è anche molto ipervenduto poi chiaramente sui tecnologici basta poco per innescare il riflesso condizionato i vecchi ricordi nostalgici del 2021 delle corse speculative sui titoli tech quindi apple più 4 e mezzo che rimbalza dalla media 200 anche qui ormai si vedono poco le candele hanno la volatilità è aumentata tanto nelle ultime settimane quindi poi attendiamo la pubblicazione dei risultati stessa cosa per amazon più 4 e 8 stiamo rimbalzando dai minimi ecco il grafico di amazon molto simile a quello del del nasdaq ci sono numerosi minimi nell'area da dubbi da cui ci stiamo muovendo in particolare per amazon e area 2009 e via dicendo persino netflix più 57 guardate netflix neanche si vede la candela gialla cerchiamo di aumentare un po per giocare quindi sono percentuali notevoli però quando i titoli ecco appunto perdono queste percentuali ricordo che netflix dal massimo di novembre quindi appena cinque mesi fa perde il 73 per cento quindi il più 56 appunto di qui è minuscolo dobbiamo amplificarlo per vedere un attimo cosa è successo ritorniamo un attimo al nasdaq ecco questa è una fascia di supporto molto importante dove sono intervenute diverse volte questa è la candela più clamorosa è stata questa gialla del 24 febbraio le mani forti qua sono intervenute diverse volte è sicuramente un livello molto difeso questo per cui vediamo adesso questo rally sarà importante vedere dove va a finire torno un attimo sulla watch list generale giusto per dare i livelli agli amici che seguono l'indice stiamo parlando di area 13 mila area estremamente difesa questo era il target in area 13 5 possiamo toglierlo è stato ampiamente raggiunto consolidato quindi questo è un qua la quarta volta che quest'area viene interessata e quindi anche se comunque i prezzi si stanno consolidando qui al di sotto della media 200 che guardate ha iniziato a flettere verso il basso quindi massima attenzione massima prudenza ecco per quello che riguarda gli indici direi che il nasdaq quello che chiaramente fa da leader gli altri si stanno muovendo con rimbalzi analoghi anche se di percentuali inferiori quindi poi magari domani col video di fine settimana faremo la situazione e del il quadro generale un po di tutti gli indici azionari vediamo la settimana come si sarà conclusa questo il dax che chiuso alle cinque e mezza quindi in parte non ha non registra quello che è stato poi il rally che è continuato sui mercati americani il future sul dax in questo momento segna 14 120 mentre la chiusura è stata 14 9 13 9 80 quindi diciamo è salito ancora ancora un po il dax comunque accenna anch'esso a un rimbalzo meno convinto rispetto a quello del del nasdaq quantomeno come estensione giornaliera però parliamo di un indice di composizione completamente diversa poi chiaramente sugli indici europei pesano molto i bancari che è il settore che in questo momento soffre di più per tutta una serie di motivi compreso quello delle tensioni geopolitiche e della possibilità di un rallentamento dell'economia passerei a questo punto al ai cambi perché l'euro dollaro ha registrato i nuovi minimi continua ecco quando vi dicevo quando si raggiunge il target o lo buca o da lì poi appunto essendo un livello di supporto può partire un riba un rimbalzo ecco questo è l'altro esempio invece il l'euro dollaro è andato dritto come un fuso ha bucato 106 e non accenna a fermarsi anche oggi abbiamo toccato nuovi minimi abbiamo visto 104 parimenti lo yen giapponese meno 1 e 8 lo yen è un ribasso eccezionale perché qui addirittura dobbiamo andare su scala mensile per renderci conto di cosa sta succedendo qui stiamo andando a toccare i minimi a 20 anni perché dal 2002 che non si vedevano questi livelli quindi avvenimenti importanti che chiaramente sono anche dettati dal differenziale sui tassi che in questo momento è molto elevato tra gli stati uniti e l'area del giappone e l'europa passerei adesso alle richieste allora ne abbiamo tre riferite a due indici azionari due a titoli azionari e una al petrolio quindi a materie prime commodities una united health titolo americano di larga capitalizzazione molto importante titolo difensivo settore salute come tutti i titoli difensivi abbastanza abbattuto ultimamente direi impostazione ancora positiva nonostante gli strappi delle ultime settimane abbiamo sta rientrando la dx dai recenti massimi però abbiamo una ripresa dei prezzi proprio sulle resistenze in area 500 direi all'amico di tenere d'occhio questa fascia che ho segnato in giallo perché qui ci passavano 34 massimi precedenti che sono stati rotti a rialzo ecco qui la configurazione tecnica la rottura rialzo alla fine del mese di marzo test dell'area che questo punto ha fatto da supporto ripartenza verso l'alto questo è un ulteriore test e questa è una configurazione rialzista qui in alto però segnalo che abbiamo un triplo top sul candlestick molto importante il triplo top dato da due berish engulfing questo qui dell'otto aprile quest'altro berish engulfing del 21 aprile e in mezzo una shooting molto importante con picco di volumi quindi secondo me quest'area 540 non sarà facile da superare ecco questo è un po il quadro su united delta anche perché appunto veniamo da un rally importante delle ultime settimane degli ultimi mesi quindi si comincia a configurare anche qualche divergenza sugli indicatori divergenza che è molto più marcata su un altro titolo che ha costo tanto ultimamente che exxon mobil settore quindi energia e qui gli indicatori ecco faccio vedere stringo un attimo per farvi apprezzare meglio guardate il dmi positivo che il giallo ecco a partire dopo il breakout del mese di gennaio 2022 un breakout con volumi ha fatto segnare livelli di 46 che poi nei successivi massimi non sono stati più raggiunti anzi abbiamo ogni volta in concomitanza di un nuovo massimo ha avuto un dmi positivo più basso compreso l'ultimo top questo del 21 aprile che ha fatto da doppio massimo con questo buying climax quindi questo questo è un classico movimento parabolico con picco di volumi di esaurimento almeno temporaneo del movimento quindi poi siamo andati a ritestarlo e qua sta partendo il terzo tentativo di superare area 90 con una situazione tecnica deteriorata quindi da un punto di vista tecnico qui se dovessi dare delle percentuali direi che molto più probabilmente eventuali nuovi massimi che sono possibili in questa fase anche perché abbiamo la volatilità che notevolmente aumentata rispetto guardate la grandezza delle candele come era ottobre si vede a occhio comunque poi basta mettere una tr sotto si vede lo dice anche l'indicatore guardate l'ampiezza delle candele parlo proprio della dimensione delle delle del body e guardate la dimensione dei body qui questa è una indicazione di il mercato non sa più dove il valore quando la volatilità aumenta in corrispondenza dei top bisogna essere molto prudenti ecco quindi nuovi massimi sono sicuramente possibili che da qui continui un movimento esteso ho qualche dubbio direi che le probabilità maggiori sono per una fase laterale anche se chiaramente qua per fase laterale comunque tra i supporti in area 77 e le resistenze in area 90 ci passano svariati punti percentuali quindi sono movimenti molto molto ampi se andiamo a stringere il quadro ecco qui si apprezza medio il movimento parabolico l'allontanamento dalla media 200 che sono tutti indicatori di stress e quindi di probabilità che poi ci possano essere dei movimenti correttivi che non è detto che avvengano poi con dei piombi dei prezzi è molto spesso i movimenti correttivi avvengono con appunto movimenti laterali prolungati nel tempo e visto che parliamo di exon andiamo al petrolio c'è un'altra richiesta sul petrolio oggi più 2 98 per cento l'amico chiedeva un po di vedere oggi se c'erano novità direi novità particolari non ce ne sono siamo sempre all'interno di questo triangolo flat in basso oggi ci siamo portati sulla trendline discendente e quindi da tenere d'occhio sul petrolio qui ci sono delle chiare configurazioni candlestick a parte il mega bearish engulfing guardate l'estensione di questa candela nera del 9 marzo che è andato quando questi top a torre che ho detto tante volte questi poi sono non sono facili da risuperare a rialzo e quindi questo è un movimento che quasi sempre che quello che è successo poi fa partire come minimo movimento laterale prolungato quindi poi in seguito abbiamo avuto un altro bearish engulfing qui il 23 marzo è una evening star classica perfetta il 19 aprile quindi con massimi decrescenti quindi queste sono indicazioni ulteriori di indebolimento tecnico quindi direi l'amico che bisogna controllare area 109 113 che sarà la una resistenza importante sarà il primo ostacolo da superare poi per tentare eventualmente il test dei massimi però fino a quel momento la tendenza in questo momento resta e questo ce lo conferma guardate i due dmi la dx bassissimo quindi la dire la direzionalità è scesa ampiamente sotto 20 quindi siamo a 13 direzionalità bassa e dmi che continuano a incrociarsi dando falsi segnali quindi qui la probabilità di falsi segnali è molto elevata fino a quando da un punto di vista tecnico non avremo segnali più chiari va bene siamo a 15 minuti di video grazie dei like che lasciate su entrambi i canali su trading view e su youtube lasciate come sempre nei commenti eventuali segnalazioni di situazioni interessanti così poi le guardiamo assieme nei prossimi video non perdetevi il video di fine settimana non so se lo faremo domani sera più probabilmente sabato mattina perché poi tiriamo le somme attendiamo le ultime trimestrali che sono in uscita fra oggi e domani questa è la settimana dei fang e così poi facciamo un punto di situazione e di preparazione per la settimana prossima grazie ancora dell'attenzione buona serata a tutti